A Palazzo Bembo l'incontro lo sviluppo sale in quota organizzato da Confindustria Belluno al centro del dibattito, gli strumenti e le azioni per il rilancio della montagna, presenti anche due ministri, quella per gli affari regionali e le autonomie Maria Stella Gelmini e quello per i rapporti con il Parlamento Federico d'Inca che hanno discusso assieme a diversi rappresentanti del mondo politico e istituzionale delle opportunità che il nostro territorio è chiamato a cogliere nel prossimo futuro, quelle rappresentate dalle Olimpiadi Invernali e dal PNRR e non poteva mancare il riferimento alla legge quadro per la montagna promossa proprio dal ministro Gelmini. Che vuole mettere al centro il rilancio delle montagne italiane, quindi la lotta allo spopolamento, la necessità di uno sostegno alle professioni di montagna, l'aiuto ai sindaci per tutelare e manutenere questo patrimonio naturalistico, ambientale davvero di grande qualità, quindi nella legge quadro ci sono tutti questi elementi, il mio augurio è che possa essere esaminata in tempi brevi e possa quindi diventare legge prima della prossima giornata nazionale sulla montagna. Credo che il bellunese possa diventare di fatto un laboratorio per questo inverno demografico e colpisce in particolare in modo le aree interne e si fa attraverso eventi manifestazioni di livello internazionale come i mondiali 2021 che sono stati fatti o come l'Olimpiadi 2026 ma anche attraverso uno sforzo sulle infrastrutture, attraverso la possibilità di investimenti per il dissesto idrogeologico, attraverso la formazione, la scuola, attraverso soprattutto anche la manifattura perché le aziende possono rimanere come il caso ACC, idea standard. La provincia di Belluno è particolarmente penalizzata però ci sono grandi lavoratori e vogliamo riportare in quota la voglia di vivere, di lavorare e di rimanere su questo territorio. Non lo facciamo per noi, lo facciamo per i nostri giovani, ci sono le Olimpiadi, non possiamo assolutamente perdere questa occasione perché probabilmente è l'ultima occasione che questo territorio ha per svilupparsi.